Siamo qui nella bella piazza centrale di Santià, è partito il Carnevale, Fabrizio Pistono, presidente della Prooco e dell'antica società fagiolesca. Il Carnevale è partito come tradizione, presidente, e si è mossa anche la città con manifestazioni anche prima, quindi molto importanti. Certo, il Carnevale è partito con l'apertura del Carnevale, la presentazione dei bozzetti, con questa nuova iniziativa che abbiamo avuto in collaborazione con un gruppo di artiste tutte femmine che si chiama Tasa, che hanno prodotto delle opere inerenti al Carnevale che verranno poi esposte sui carri di prima e di seconda categoria durante le sfilate e quindi faranno mostra di loro in questa unione tra l'arte pittorica e l'arte della cartapesta. ed è una prima assoluta mondiale, non ho notizia che ci siano altri Carnevali che abbiano avuto quest'idea e quindi noi siamo contenti di questa collaborazione con questo gruppo di artisti e tra l'altro saranno presenti qui a Carnevale e faranno qualche performance dal vivo qui a Carnevale, insomma faranno delle cose durante i giorni carnevaleschi, saranno nostri ospiti e quindi insomma è partito nel modo migliore possibile e adesso pian pianino iniziamo Pule e Congra. Ecco Pule e Congra che quando incominciano è sempre con lo stesso calendario, oltretutto Carnevale viene piuttosto basso quest'anno. Alto, quando è tardi nel mese è alto, sì quest'anno quindi abbiamo il tempo per fare tutti i nostri, il nostro riguale tradizionale, però comunque partiamo già il 7, il 7 c'è già la prima Pula, la prima Congrega e poi via andando avanti tutti i sabati, le domeniche ci saranno gli appuntamenti tradizionali, Pule, Congreghe, Pule, Congreghe fino ad arrivare a Carnevale. Ecco Presidente, ascolta, Santià segue sempre ed è una passione la Pule e la Congrega, c'è sempre quella partecipazione come una volta, anche perché le tradizioni vengono tramandate ai giovani. Certo, sicuramente. Diciamo che qualcosina è cambiato perché una volta c'era una partecipazione è una partecipazione creata proprio dalla voglia magari di quello un po' meno abbiente diciamo di quella sera trovare il suo datore di lavoro e magari spendere metà dello stipendio della settimana per insultarlo, per dargli, per mandargli delle cose, mandargli dei salami dicendo che lui aveva fame mentre invece non era così, ecco, invece adesso è cambiato un po' questo però comunque lo spirito è sempre quello, la voglia, la gogliardia è sempre quella e quindi ci si diverte in queste congreghe con battute salaci a volte molto molto divertenti.